Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilles e sono qui oggi per portarvi come ogni giorno un video e oggi ragazzi andiamo a vedere quello che è il mio piano per arrivare al milione di euro investiti Considerate che è un obiettivo che secondo me è molto più raggiungibile di quanto in genere le persone pensino Intenzialmente se partite presto, secondo me è abbastanza fattibile non dico che sia facile ma è abbastanza fattibile Considerate che questo grafico qua vi mostra quello che è l'andamento del patrimonio di Warren Buffett Come potete vedere tendenzialmente a 19 anni aveva 10.000 dollari che se considerate 10.000 dollari sono poi 8.200 euro e secondo me a 19 anni sì è tanto però è ancora fattibile avere 8.200 euro da parte e secondo me semplicemente investendoli nell'esempio 500 facendo un piano di accumulo ovviamente potete tranquillamente raggiungere il milione di euro Semplicemente guardate vi faccio un piccolo calcolo Se noi prendessimo questi 8.200 euro li investissimo come capitale iniziale poi supponiamo di aggiungere cosa facciamo? 50 euro a settimana che secondo me è fattibilissimo vuol dire che sono poi facciamo 50 per 52 uguale sono 2.600 euro l'anno Anni di durata del deposito è ovvio che depositando così poco dobbiamo ottenere investiti soldi per tantissimo tempo supponiamo un'orizzonte temporale di 40 anni quindi supponiamo 40 anni di deposito e di accumulo di interessi tramite l'interesse composto supponiamo il tasso di interesse anno che storicamente per l'esempio 500 è qua segna del 10% che secondo le statistiche e i documenti storici il rendimento medio anno dell'esempio 500 fino dall'anarchità nel 1928 al 2016 è stato all'incirca del 10% però noi siamo un po' più conservativi mettiamo un 8,5 andiamo a vedere quale sarà il nostro capitale fra 40 anni come potete vedere casualità volutevi posso sicurare che non avevo provato se voi depositaste 2.600 euro l'anno che voglio dire ragazzi nel momento in cui inizi a lavorare 2.600 euro l'anno è abbastanza poco ci può stare tranquillamente mettere 50 euro da parte settimana lavorando e investirli semplicemente facendo un pieno di accumulo sull'esempio 500 potete tranquillamente supponendo di avere anche depositato un capitale iniziale di 8.200 euro raccogliere un milione di dollari e ragazzi miei e questa è la magia dell'interesse composto il vostro capitale depositato sarà semplicemente la differenza tra 1.048.000 e 936.000 vuol dire che sono all'incirca 100.000 euro così arrotondati facciamo 115.000 euro voi depositando 115.000 euro tramite pieno di accumulo ragazzi miei riuscirete a fare un milione un milione di euro infatti come vedete Warren Buffett ha iniziato vabbè qua prende dai 14 anni però supponiamo che avesse iniziato a investire a 14 anni con 5.000 euro è riuscito a raggiungere ovviamente perché lui ha avuto rendimenti molto più alti rispetto al 10% anno considerate che l'esempio 500 che è l'indice con 500 azioni americane ha reso il 10% anno ma la Berkshire Hathaway che è l'edge fund di Warren Buffett ha reso molto di più a tanto tanto di più del 10% e supponiamo anche quindi che io ho messo l'8,5% che è ancora diciamo non voglio dire conservativo perché comunque è alto l'8,5% però supponiamo che io alzassi il rendimento anno dall'8,5% al 10% guardate come cambia il valore totale si aggiungono poi 500.000 euro ragazzi miei facendo l'1,50% in più ogni anno ed è per questo che la gente continua a chiedermi il perché sostanzialmente preferisco fare stock picking e cercare di fare anche solo l'1% in più anno rispetto alle semplici 500 è per questi numeri qua considerate che come vi ho già mostrato nello scorso video che secondo me non nello scorso ma quello prima vi ho mostrato il mio portafoglio e secondo me è un video che dovete vedere assolutamente io il mio primo anno di investimenti ho ottenuto un rendimento del 38% che è altissimo però c'è stato un crollo in borsa io sono entrato pesantemente durante il crollo e quindi il mio rendimento è stato del 38% che è follia considerate che potenzialmente se io io ho sembrato con un capitale iniziai 10.000 euro e deposito annualmente 5.200 euro e li tenessi depositati per 40 anni e ottenessi ogni anno il 38% guardate quanto raggiungerei di soldi raggiungerei 11 miliardi di dollari ma ovviamente questo non è il mio obiettivo il mio obiettivo è ottenere un rendimento ragazzi miei del 10% anno e questo 38% qua è semplicemente un cuscinetto che mi creo per gli anni in cui non riuscirò a fare il 10% perché non pensate che sia sempre rose e fiori se io riuscissi a tenere semplicemente un rendimento del 10% che comunque ragazzi miei ricordatevi è altissimo un rendimento del 10% è altissimo dovete studiare tantissimo per avere un rendimento del 10% anno considerate che io studio tantissimo e non sono sicuro per niente che riuscirò a ottenerlo e io mi spacco tutti i giorni faccio solo delle grandi analisi di bilancio e ottenere un 10% anno è molto difficile quest'anno ripeto ho fatto il 38% perché è stato un crollo totale in borsa infatti se noi andiamo a vedere il principale indice americano è crollato del se ne prendiamo dal 7 febbraio al 23 marzo è crollato del 30% e poi è risalito del 64% dal minimo di marzo considerate che io ho iniziato a investire il 14 aprile tramite un pieno di accumulo l'esempio 500 ha fatto il 33% io ho fatto il 38% che considerate considerando anche che un pieno di accumulo è follia perché superare il rendimento dell'esempio 500 facendo un pieno di accumulo è una performance pazzesca soprattutto se lo supero in un anno del 5% quindi ancora più follia vabbè ma questo lo vedremo nei prossimi anni considerate che come vi dicevo se io deposito 10.000 euro iniziale che è quello che ho fatto investo 100 euro a settimana deposito i miei soldi per 40 anni considerate che ho 22 anni quindi tendenzialmente se io sommo i 40 anni i miei arrivo a un'età circa di 62 anni cioè l'età più o meno in cui si va in pensione se mai ci andremo quindi tranquillamente se io riusci a ottenere questi rendimenti qua sul lungo termine riuscirei ad avere a 62 anni praticamente 3 milioni di dollari ma questo qua è molto 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 alto quindi supponiamo che io voglio andare prima in pensione ovviamente perché se investo non voglio andare in pensione a 62 anni semplicemente se no non investirei supponiamo che vuoi andare a 52 anni cioè 10 anni prima quindi togliamo 10 anni e vedrete come cambierà perché questa è la magia dell'interesse composto infatti come potete vedere guardate come esponenziale la chiesta di Warren Buffett che come potete vedere a 56 anni aveva 1 miliardo e 4 e a 83 anni aveva 58 miliardi di dollari questa è la magia dell'interesse composto comunque se io tolgo solo 10 anni passo da 2 milioni e 9 a 1 milione ragazzi miei vedete come la differenza che c'è tra i 30 e i 40 anni di deposito e tra supponiamo i 20 e i 30 è totalmente differente infatti come potete vedere dai 30 ai 40 anni cambia per 1 milione e 8 mentre se noi togliamo solo dai 30 ai 20 guardate come cambia cambia all'incirca di 700 mila euro che non è 1 milione e 8 e sono sempre 10 anni ragazzi miei perché più interessi riuscite a fare ogni anno più interessi sul capitale e sugli interessi che avete fatto avrete quindi potenzialmente prima iniziate di investire e prima raggiungerete il milione di dollari facendo un rapido calcolo andiamo a vedere qual è secondo me l'età in cui io potenzialmente potrei raggiungere i 100 mila euro che diciamo è il primo step poi l'interesse composto inizia a farsi sentire veramente supponiamo che io investa 10 mila euro come capitale iniziale 5200 euro ogni anno e lo faccia per facciamo 5 anni al tasso interesse di 10% andiamo a vedere il mio capitale fra 5 anni vedrete che sarà all'incirca di 51 mila euro quindi aggiungiamo ancora 2 anni facciamo 8 così arrivo ai 30 anni potenzialmente io a 30 anni non riuscirei ancora a fare i 100 mila euro quindi supponiamo 9 ecco tra 9 anni potenzialmente a 31 anni secondo i miei calcoli che poi possono essere campati lì ma tendenzialmente hanno una base veritiera che penso sia fattibile potrei tranquillamente raggiungere i 100 mila euro che sono il mio primo obiettivo ovviamente come secondo obiettivo c'è quello del milione e lo potete come vi facevo vedere raggiungere una volta passati all'incirca 30 anni facciamo 29 vediamo ecco 29 in teoria potrebbero bastare questo vuol dire che potenzialmente a 50 anni potrei avere un milione di euro comunque ragazzi miei vi ricordo che vi conviene secondo me passare sostanzialmente a tre link il primo è il link degli abbonamenti al mio canale perché ci sono vantaggi secondo me utilissimi che possono farvi capire come iniziare ad investire il secondo è passate dai libri in descrizione leggetevi ragazzi miei perché 15 euro spesi per i libri sono secondo me equivalgono a 1.000-2.000 euro persi negli investimenti secondo i miei calcoli e il terzo ragazzi miei è andate a vedervi assolutamente il video in cui vi mostro il mio portafogli azionale secondo me ne vale completamente la pena detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like un commento e niente ragazzi vi chiamo al prossimo video video